La clamorosa verità su Roberta Martucci, la salentina svanita nel nulla in circostanze misteriose la sera del 20 agosto del 1999 a Torre San Giovanni di Ugento potrebbe finalmente venire a galla dopo oltre 20 anni di silenzi, depistaggi e omertà. Il cerchio si stringe attorno ad un parente di Roberta, unico sospettato che avrebbe avuto un ruolo determinante nella vicenda. Abbiamo valutato di sottoporre il caso in Parlamento, sarà portato da un parlamentare locale pugliese, una parlamentare donna che è stata colpita dalla storia di Roberta Martucci. L'abbiamo richiesto perché quello che speriamo è che arrivi in commissione parlamentare dopo essere approdato in Camera e venga sottoposto al Ministro della Giustizia. Il giallo potrebbe presto approdare in commissione parlamentare. I familiari infatti hanno deciso di portare il caso all'attenzione delle massime istituzioni, mentre in procura è già aperto un nuovo fascicolo per omicidio. Siamo sicuri che l'intervento della politica possa fornire quella spinta necessaria e anche quella voglia di giustizia, non soltanto che sta da noi, ma adesso appoggiati anche dalla politica, per dare finalmente a Roberta Martucci la sua verità.